Ma la prima cosa è che siccome non ci sentivamo col Presidente Putin da prima dell'inizio della guerra, ho detto il perché di questa telefonata e ho detto che voglio, la chiamo perché voglio parlare di pace. Poi gli ho chiesto se fosse possibile, andiamo per ordine, a questa risposta, a questo punto espresso da me, il Presidente Putin ha sostanzialmente, come uno si può immaginare, ha consentito, certo, parliamo di pace. Allora ho chiesto quando è previsto o se è previsto un cessate il fuoco, perché questa era l'altra richiesta che volevo fare, la cosa più importante, ho detto ora, è dimostrare che questo desiderio di pace esiste attuando un cessate il fuoco, anche breve, ma cessate il fuoco. Le condizioni non sono mature e però è stato aperto poi quello, il corridoio umanitario di Mariupol, che è la notizia che voi avete visto oggi sui giornali. Ho poi seguita una lunga descrizione della situazione, diciamo, geostrategica dell'Ucraina e quali potrebbero essere le condizioni di un accordo, la descrizione da parte del Presidente Putin. A questo punto ho espresso la mia convinzione che per risolvere certi nodi cruciali dell'accordo fosse necessario un incontro con il Presidente Zelensky, che peraltro, col quale avevo parlato prima, sta chiedendo praticamente dall'inizio della guerra. E la risposta è stata che i tempi non sono ancora maturi, occorre che i negoziatori vadano avanti con le trattative. L'impressione che ho avuto, poi parliamo di fatti e di sensazioni, uno dei punti che il Presidente Putin ha trattato è che a suo avviso ci siano dei piccoli passi avanti nei negoziati. E in effetti le posizioni delle due parti su vari argomenti dall'inizio si sono un po' avvicinate. Vedete quanto sono cauto io su questo, perché c'è evidentemente ancora molto scetticismo.